Prendere i granchi blu con le mani non è semplicissimo, bisogna cercare di bloccarli sul fondo e poi immobilizzare le chele. A volte ci si riesce subito, altre volte invece è il granchio più veloce di noi e riesce comunque a pezzicarci. Può farci davvero malissimo, quindi se lo fate utilizzate sempre i guanti e prestate attenzione.